4 calci a un pallone, tanti gol ma soprattutto tante risate. Si è tenuto negli ultimi giorni di dicembre presso lo Sporting Club di Via Fontanella a Pompei il trofeo del Gazzettino Vesuviano sponsorizzato da Givova, una prima edizione che ha voluto essere solo un punto di partenza. Tre squadre, tutte rigorosamente made in Gazzettino, si sono affrontate senza esclusione di colpi nel campetto di calcio a 5 Pompeano, gentilmente messo a disposizione dal signor Pasquale Calabrese che ha anche preso parte all'evento indossando i guanti da portiere per difendere i palli di una delle formazioni. La squadra azzurra della redazione, quella bianca dei collaboratori e il team rosso della distribuzione si sono contesi l'ambita Coppa a suon di gol. A vincere è stata la redazione, capitanata dal caporedattore Dario Sautto e composta da Gennaro Manzio in porta, Francesco Ferrigno, Giuseppe Somma e dal bomber Luigi Del Gaudio, capocanoniere del triangolare con 10 gol. Seconda classificata alla distribuzione, in maglia rossa spiccava sicuramente il direttore Gennaro Cirillo, prestato al fratello Luca insieme al signor Calabrese, ai fratelli Gianluca e Peppe D'Ambrosio e a Vincenzo Pagano. Ultimi classificati ma con onore i collaboratori capitanati da dell'editorialista Antonio Irlando, al quale si sono affiancati Angelo Riso, Antonio Pollioso, Nunzio Del Gaudio, Rolando Navarone e Pasquale Cirillo Junior. Tutti gli incontri sono stati arbitrati in maniera impeccabile dall'arbitro presidente Ciro Massa. Il prossimo appuntamento è previsto già per il Ponte di Pasqua, quando si terrà la seconda edizione del torneo. Gestore, un commento a caldo sull'evento... È stata una manifestazione partita in sordina, partita così per giocare, per scherzi, invece è riuscita molto bene, ci siamo divertiti. Mi dispiace che non c'erano tutti i collaboratori perché di domenica mattina qualcuno fa le urine in sabato sera, però la prossima volta lo organizzeremo di nuovo di domenica mattina e chi si vuole divertire... In primavera già ci sono le rivincite in corso. A Stocopori, anche a me, anche a me.